I Galattici. Domani sapremo chi siamo. Di Monique Mathieu. Voce e traduzione. Aura. Quinta dimensione letture. Figli della luce, fratelli della terra, è con grande gioia che siamo ancora in mezzo a voi. Da molti anni, come spesso ti è stato detto, cerchiamo di fare del nostro meglio per incoraggiarti, per facilitare il tuo cammino su questo mondo, che per il momento qualifichiamo come piuttosto oscuro. Cerchiamo di essere presenti per ogni esperienza della tua vita. Ovviamente, quello che ti diremo non andrà bene per tutti, perché ognuno ha il proprio orientamento spirituale, il proprio modo di funzionare, i propri sentimenti, le proprie convinzioni. Quindi stiamo parlando a livello globale e siamo felici che coloro che possono ascoltarlo lo ascoltino. Per favore, sappi che non abbiamo mai voluto iniettare paura nei nostri testi. Al contrario, abbiamo cercato di darvi fiducia e fede e di dirvi che al di là di quello che state passando, quanto può essere bella e ben vissuta la vita. Tuttavia, ti diremo questo. Per tutti, a seconda di come pensano, a seconda di come concepiscono le esperienze della propria vita, tutto può essere buono, meno buono o pessimo. Due persone possono avere le stesse esperienze. Per uno saranno vissute con molta più facilità che per l'altro, perché uno li vivrà con la coscienza dell'amore, della gioia, dell'accoglienza, mentre l'altro li vivrà con un'altra coscienza, in rivolta, e penserà, perché io? Perché mi sta succedendo tutto questo? Quindi questi sono due modi totalmente diversi di pensare e concepire la vita. Lo stesso vale per la paura. Molti esseri umani sono così diversi l'uno dall'altro. Avranno paure molto diverse. Sono stati soggetti a paure che potremmo qualificare come terribili e destabilizzanti per l'umanità. Paure che sono state vissute per due anni terrestri. Quindi, ovviamente, non vogliamo aggiungere paura alla paura. Cerchiamo da tanti anni di mostrarti il percorso che puoi intraprendere e percorrere il più facilmente possibile. Sappiamo che gli ultimi messaggi che abbiamo dato possono aver generato incomprensioni e paura. Vi abbiamo avvertito che domani tale accadrà per il vostro avanzamento, per la totale liberazione dalla prigione in cui siete stati per molteplici incarnazioni, cioè la prigione delle tenebre della coscienza. Vi diciamo che tra poco sarete liberati da tutto ciò. Finalmente sarete voi. Finalmente capirete chi siete e come funzionate, quali sono state le vostre vite e qual è stato il vostro percorso. Avere accesso a tutto questo non vale la pena far passare la cruna del lago, vale a dire attraverso momenti che possono essere complicati per l'essere umano. In realtà non ci saranno complicazioni. In tutto quello che ti abbiamo detto, e lo ripetiamo molto succintamente, c'è semplicemente un cambiamento nel tuo essere fisico, una modificazione della coscienza e soprattutto un'immensa ricompensa alla fine di tutto questo, quella di poter finalmente vivere in un mondo che molti di voi desiderano dal profondo del cuore. Non parleremo più di paura perché ognuno sperimenterà le proprie paure, le proprie incomprensioni, la parola mal accolta, male capita o mal detta. Gli esseri umani sono purtroppo spesso fraintesi. Ciò che spesso crea divisioni familiari o relazionali è l'incomprensione della parola che viene detta da tale o tale persona, o anche da noi, che possiamo dire la parola o la frase che tu non capisci e chi può indirizzarti verso un percorso che farai e non potrai necessariamente capire. Vorremmo dirvi, e possiamo dirvi con precisione, che nelle prossime settimane e mesi ci saranno grandi trasformazioni vibrazionali per questo mondo. Quando lo diciamo, stiamo parlando di tutta la vita su questo mondo. Vi spiegheremo queste grandi trasformazioni in un modo completamente diverso. Come vi è già stato detto, e questo può scioccare alcune persone che non hanno ancora acquisito la consapevolezza dell'universalità della vita, Dio Padre Madre è in tutta la vita, in tutta la sua creazione, sia nei vari regni, sia nelle coscienze planetarie delle sfere, sui pianeti, nei sistemi solari, nelle galassie, eccetera. Tutto è stato creato dalla sorgente, e come vi è stato detto tempo fa, lei sta affinando la sua creazione, cioè rendendola ancora più bella. In un modo leggermente più poetico, ti è stato detto che Dio Padre Madre sta migliorando il magnifico dipinto della creazione che ha eseguito. Affina, rende più bello, trasforma, illumina. Poiché la vibrazione di Dio Padre Madre è in tutta la vita, vi sposterete in una vibrazione ancora più alta di quella che avete attualmente sul pianeta Terra. Certo, qualcuno dirà, le vibrazioni non sono elevate, considerando tutto quello che sta succedendo. Diremo questo, è proprio perché le vibrazioni stanno aumentando sempre di più che tanto sta accadendo nel vostro mondo in questo momento. Come ti è già stato detto, la maggior parte di ciò che sta accadendo è nascosta. Vedi solo una piccolissima parte di tutto questo. Tutto ciò che accade ti porta a un'altra comprensione. Non vuoi più vivere del cibo politico e spirituale, il male spirituale diremmo, che i tuoi media sprigionano costantemente. Ora ti sarà dato un altro cibo, un cibo molto più sottile, un cibo divino, estremamente prezioso. La sua missione sarà proprio quella di darvi l'energia necessaria per affrontare tutto ciò che dovrete affrontare e soprattutto di aiutarvi a sradicare le vostre paure. Aggiungeremo questo. Dove c'è amore non c'è paura. Dove c'è compassione non c'è violenza, non c'è paura. Prova a pensare a come corrisponde questo a te stesso. Trasformati in amore. Accetta la vibrazione suprema che è la vibrazione dell'amore. Accetta non solo di integrarlo ma anche di irradiarlo. Molti esseri umani non si piacciono, non possono nemmeno presumere di poter essere amati dai loro fratelli, quindi non possono vivere senza paura, la paura dell'altro, paura di tutto, paura di niente. Fratelli della Terra, amatevi, siate consapevoli che nel profondo di voi rimane una parte divina e che dal momento in cui rimane dentro di voi nulla può raggiungervi. Se si è consapevoli di questo immenso potere, le paure sono assolutamente obsolete, non possono esprimere nemmeno il millesimo di ciò che sperimentano nello stato attuale di una parte dell'umanità che vive di paure. Accetta la vibrazione dell'amore e ti inonda, che si irradia dentro di te. Accetta che l'amore esteriore, l'amore di tutto ciò che ti circonda, ti penetri e cresca in te. Accetta che l'amore della tua parte divina si esprima, irradi, ti guidi, ti trasformi. Deve essere così e così sarà. Per questo vi abbiamo detto che in un tempo terreno relativamente breve, nelle prossime settimane o nei prossimi mesi, molte cose cambieranno negli esseri umani. Vivono un'immensa preparazione spirituale, l'immensa preparazione al gigantesco salto, il santo quantico, il salto del corpo, il salto dell'anima. Non vi diremo quando avverrà questo salto, non importa. Ciò che è importante è ciò che stai facendo attualmente con la tua vita. Ciò che stai facendo in relazione ai tuoi pensieri, in relazione alle tue sofferenze e in relazione alle tue rivolte. Non ribellarti per nulla, sii sempre confidato nella fede, nella gioia e nella benevolenza. Sappi che non sei solo. Devi davvero essere in grado di integrarlo in te stesso. Non sei solo perché tutti gli esseri umani hanno questa parte divina dentro di sé, anche quelli che sono malevoli. Sono nati proprio come te, da Dio, dalla sorgente. Si sono semplicemente dimenticati. Hanno dimenticato chi sono. Sono stati semplicemente manipolati da forze oscure. Tuttavia, nel profondo di tutti gli esseri umani, anche coloro che lavorano con una coscienza totalmente diversa dalla tua, una coscienza di potere, per esempio, nascono dalla sorgente. Tutti torneranno alla sorgente tra più o meno tempo, secoli, millenni, centinaia di millenni. Non contiamo ciò che non può essere contato. Attualmente è data una grande possibilità all'umanità e anche a tutti i regni della vita, minerale, vegetale, animale e umano, quella di poter accedere a qualcos'altro. Lo ripetiamo ancora una volta. Se non siete nell'accettazione di questi immensi cambiamenti, se vi mettete permanentemente nella paura, rallentate la vostra evoluzione. Rallentate anche tutte le energie divine, tutte le energie straordinarie che penetreranno sempre più in questo mondo. Impedirai a queste energie di inondarti e comunque entreranno in te, ti attraverseranno, si stabilizzeranno in molti di voi, ma le vostre paure le rallentano, cioè non svolgeranno il ruolo che devono per essere realizzato qui in relazione alla tua vita futura. Voi, nostri simili, vedete la vostra vita solo in termini di uno, due o tre giorni, in termini di esperienze, in termini di passato, in termini di un possibile futuro che potrebbe non essere mai vissuto. Vorremmo dirvi, vedete il vostro futuro nella luce, nella gioia ritrovata, nell'amore. Attualmente molti esseri umani che vivono sul pianeta Terra hanno perso la gioia e la gioia è una vibrazione. Ci piace dire che la gioia è la sorella dell'amore. È anche nel profondo di ciascuno di voi e nonostante le prove che potete vivere quotidianamente, nonostante le sofferenze e i dolori. La gioia c'è. Basta semplicemente accettarla. Basta semplicemente accettare di esprimere la gioia, amore, la leggerezza. Leggerezza significa non essere in questa densità che a volte può appesantire. Per noi la leggerezza è prendere distanza dalla tua vita, da chi sei. Cos'altro possiamo dirti, non solo per rassicurarti, ma per prenderti per mano, per guidarti fino alla fine della strada. È che rinascerete a voi stessi. Avrete la gioia immensa di riscoprirvi, di ricordare chi siete stati, da dove venite. Ti sarà offerto nella tua nuova vita. Vorremmo anche dirvi che la vita sulla terra non dura nemmeno un momento, che avrete l'eternità per capire, evolvere, crescere nell'amore e nella coscienza. Date dunque alla vostra vita il suo significato sacro e non quello della vita materiale e umana. Non aggrapparti disperatamente alla vita le tue paure. La vita è luce, è bella, è gioia, è esperienza, è amore. Prendi il meglio della vita e la vita ti darà il meglio. Volevamo dirvi in questo giorno, mantenete sempre fiducia e fede. Lo abbiamo detto più e più volte, ma dobbiamo ripetere spesso la stessa cosa, in modo che possiate capire, integrare ed esprimere. Siete amati, figli della Terra. Siete protetti dagli esseri di luce dei vostri fratelli galattici. In questo momento stanno lavorando intensamente per te, per ristabilire una certa armonia. Non possiamo dirti esattamente tutto ciò che sta accadendo al di là della tua consapevolezza, al di là della tua comprensione. L'unica cosa che vogliamo dirvi ancora è avanzate nel meraviglioso sentiero della luce che è tracciato per ciascuno di voi. Andare avanti serenamente, vivere la fraternità, vivere la gentilezza, vivere tutte le qualità dell'anima, esprimerle e offrirle. Ti amiamo infinitamente. Ora vi lasciamo. Possano pace, gioia e amore inondare la tua vita in modo permanente. Fidati, la vita è meravigliosa. Impara ad amarla, ad amarla nel profondo del tuo cuore. A prestissimo.